Anna, sei pronta? No, guarda, non posso. Se mi muovo... Ma scusa, tu che assorbenti usi? Beh, questi. Hai mai provato i Tampax? Gli assorbenti interni? Certo, con i Tampax fai quello che vuoi. Sono molto assorbenti e poi, insomma, sono comodi. Ma sono facili da usare? Come no? Hanno un applicatore speciale e così sono anche molto igienici. Ma è fantastico! Muoviti! Passa a Tampax! Passa a Tampax!